Sta suscitando pareri contrastanti l'abbattimento delle robigne che costeggiavano strada a Gazzana. Il consorzio di bonifica che ha eseguito analoghi interventi in altre zone del territorio precisa che le ragioni sono legate alla sicurezza, in quanto le piante non erano ben radicate, data la vicinanza con la sede stradale, potevano rappresentare un pericolo per gli automobilisti, soprattutto in caso di maltempo. C'è chi però reputa l'abbattimento uno scempio, sono diverse le segnalazioni giunte all'indirizzo email tucronista e teleliberta.tv per manifestare la contrarietà all'opera del consorzio. Ci sono problemi ben più gravi del ristio remoto della caduta di un albero, si legge in uno dei messaggi indirizzati alla redazione, nel quale si punta il dito anche contro la velocità degli automobilisti sulla Gazzana, ritenuta eccessiva, e sulle strisce pedonali poco visibili e non adeguatamente segnalate. A riguardo l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini replica che è in corso proprio in questi giorni a Piacenza un intervento di sistemazione della segnaletica orizzontale, se necessario riguarderà anche strada Gazzana nel tratto di competenza comunale. Il consorzio di bonifica sottolinea infine che l'abbattimento delle robigne è avvenuto su consultazione degli esperti agronomi.